bene siamo allo stand franchi con il testimonio storico di franchi con alberto rizzini l'ultima volta che ci siamo visti eravamo in una riserva della monte feltro io buona memoria per una ragione molto semplice perché tu porti bene a canale caccia devi sapere che il video che abbiamo fatto ha superato le 25 mila visualizzazioni adesso non so se il merito è il mio e il tuo immagino che facciamo 50 50 d'accordo ok dai va bene così allora il brand franchi è in pieno rinnovamento siamo tra le f di franchi ci ha stupito ancora una volta il direttore beccaria ha tirato fuori una scenografia che di sicuro è una delle più belle della fiera eccezionale così come eccezionali sono le armi presenti non solo ma siamo anche in compagnia delle hostess della franchi perché anni che le hostess della franchi vincono il premio di miss fiera che invece fanno i nostri colleghi di cacci in fiera della doppietta per cui gli diamo un'anticipazione perché ho come l'impressione che anche quest'anno vincerà di nuovo la franchi per cui franchi è un brand dedicato ai giovani oggi io invece con te vorrei presentare un prodotto o che si chiama beccaccia quindi no ti fa pensare a qualcosa di stiamo parlando del feeling beccaccia nasce nasce quest'anno in black con le canne ventilate 66 questa è la versione numero in calibro 12 estrattori manuali per la sintonia naturale così le cartucce si prendono si rimettono in tasca selettore perfetto vedo che chiaramente mantiene le due righe classiche di franchi e l'altra volta avevamo parlato dell'ergonomia anche di quest'arma che è eccezionale mantiene le righe franchi mantiene l'interlacement in 3d e naturalmente per un grip sempre migliore dell'arma si diciamo che è stato disegnato che la mano rimane molto più ferma nel momento dell'azione di caccia mi sono due beccaccine una sulla destra sulla sinistra dell'arma che rappresentano proprio l'arma che è il beccaccia secondo me avendola utilizzata già un paio di volte è ben bilanciata e continua con la filosofia franchi sintonia naturale e un prolungamento del corpo molto ben bilanciata non solo ma immagino anche per il tipo di caccia si fa la beccaccia è un'arma estremamente versatile e agile si avendo la canna un po più corta essendo leggera è un'arma che si muove molto agilmente con il cacciatore nel sottobosco mira franchi sempre non solo all'aspetto ergonomico ma anche la praticità dell'uso pochi fronzoli si va a caccia franchi è un'arma da caccia non è un'arma da rastrelliera non è un'arma da tiro franchi è l'arma ideale per andare a caccia e anche l'arma ideale per i giovani perché questo è lo spirito praticamente del brand franchi questo è il nostro spirito sintonia naturale e a tutti a caccia molto bene io ti ringrazio ringrazio di nuovo franchi e speriamo nel successo di visite che abbiamo ottenuto l'altra volta molto bene ciao ciao ciao